Una vicenda al limite del grottesco. Così inizia il duro attacco del Partito Democratico contro la Lega Nord ed il suo assessore regionale Stefano Mai. Il partito d'opposizione punta il dito contro quanto accaduto questa mattina in regione nel corso della seduta della Commissione Territorio e Ambiente. L'assessore Mai ed il consigliere della Lega Nord Pugioni non si sono detti per tempo che entrambi intendevano modificare la legge 24 sulla rete di fruizione escursionistica della Liguria, dichiarano dal PD. E così hanno presentato due proposte diverse, mettendo in scena una vera e propria commedia. L'assessore infatti ha chiesto al consigliere Pugioni di poter inserire nella sua modifica di legge le proprie proposte, ma Pugioni ha rifiutato e tutto il gruppo della Lega Nord ha votato, insieme al resto della maggioranza, contro la proposta dell'esponente di giunta per tenere separati i due percorsi di legge. Il Partito Democratico lancia quindi un affondo definendo ironicamente l'episodio un bel esempio di coordinazione e unità all'interno del centrodestra. Ora si attende la risposta dei diretti interessati.